cara madre da oggi in poi voglio diventare un bravo giovine ho deciso mi voglio cambiare preparami a camisa magli e calzottini lucari mi ha mandato un piatto ma chi l'ha fatto bene come l'ha fatto bene chi l'uomo manda l'ospedale l'ha fatto buono eh no tu no ma tu no non lo lascia passare uno lascialo leggere te l'ho detto ha avuto la malattia è nervoso guarda la gamba guarda guarda la gamba vai avanti pesca dobbiamo mangiare piatti ce ne stanno poca hai capito ho capito ho capito legge legge che non ti cura proprio ma metti che spallo vai avanti vai avanti